potevo mancare un mese con la cartolina promozionale mensile del libro che assolutamente no però questa volta sono stata brava infatti scontrino alla mano e lo scontrino è piccino perché ho comprato alla fine solo un prodotto e cosa se non la mia mitica mattita questa che la water proof e i pensi lunghissimo durata questa volta nel colore marrone come sempre la conoscerete ormai da una vita perché io continuo prendere la riprenda la prezzo di destino a 9 95 io l'ho pagata 5 e 97 con lo sconto del 40 per cento quindi ok e dopo vediamo gli omaggini in questo caso questo che è lo shampoo doccia corpo e capelli al mano e eccola che sinceramente a me non fa impazzire con il profumo ma bronto lo piace quindi è felice anche lui poi questa che tiriamo fuori adesso ma il bikini bag è molto carina è una shopper carina per il gomma che si chiude per metterci dentro il costume bagnato ma se non andate al mare o in piscina tranquille io questa ce l'avevo anche l'anno scorso ci ho messo dentro tutte le mie spugnette per il make up con una di quelle bustine che assorbono l'umidità che trovate nelle scarpe nelle borse ovunque chiusa bene non hanno preso umidità tutto l'anno comunque è gommata quindi va benissimo anche che ne so per portarci dentro se non vogliamo metterci vogliamo andare spiaggia metterci dentro il telefono o poche cose e comunque è piccina insomma un uso sicuramente lo trovate io ad esempio per portare anche in giro alcune cose quando sto anche fuori in cortile evitare la polvere quindi wow poi vediamo un po i campioncini in questo caso mi ha proprio riconosciuto sì ormai mi conosce infatti mi dà il cosine anche perché sa che io comunque le metto sul blog e due campioncini del siero della antiche globale e due il siero occhi lo sa è fantastico e questo era un piccolo piccolo video di make up comunque poca spesa e molta resa direi e fatemi sapere se vi piace il video se avete comprato questo prodotto o provato qualcuno di questi like mi raccomando condividete il video iscrivetevi mi raccomando e campanella così varietta avvisata ogni volta che carico un nuovo video ciao ciao